Signora Ministro della Difresa, Capitano Elisabetta Trenta, Autorità, Signore, Signore, Amici, sono il General di Brigata Aerea da Antonio Albanese, la circola in mezzo, non più un servizio attivo, sono il promotore di due convivorazioni in occasione del 75esimo anniversario del naufragio del pirossi a Popovia. La prima è di carattere religioso ed è quella di questa sede, la seconda avverrà l'8 giugno presso il Conservatore di Musica Santa Cecilia a Roma con un concerto sul quale mio fratello, il direttore artistico del Conservatorio, ormai già da un anno che sta lavorando, io lo ringrazio per questo e lui è oggi qui presente. Io desidero di ringraziarla, Signora Ministro, a nome delle 320 famiglie, finora individuate, dei 4.116 dispersi, e che oggi rappresento, e la ringrazio per aver accettato l'invito che le è pervenuto attraverso una semplice lettera. Siamo rimasti sinceramente sorpresi nel vedere frattumarsi quella parete di cristallo blindato che è fatto di burocrazia, formalità e insensibilità che spesso, troppo spesso, si interpone fra i cittadini e le istituzioni. Signora Ministro, 320 famiglie equivalgono a 5.000 persone, più o meno. Se oggi noi le avessimo individuate tutte, saremmo a parlare di 100.000 persone. Considerando tutti i rami familiari, considerando che sono passate tre generazioni, io non ho un familiare disperso. Però dal 2014, cioè da quando ho scoperto questa incredibile vicenda vicenda mentre restavo servizio ad Atene, come ha detto per la difesa, nella nostra ambasciata, che ritengo di familiari dispersi averne 4.116. per questo che è da allora sostengo la cosiddetta rete dei familiari dispersi nel naufragio del piroscapo aporio. Rete che andava spontaneamente grazie all'iniziativa di un familiare che ne ha incontrati altri impegnati nella stessa ricerca sulla rete, approfondito le ricerche fino a scoprire dell'esistenza dell'elenco dei nominativi di quei soldati imbarcati, e che fino a quel momento erano considerati svaniti nel nulla, disperse. Elenco che, seppur redatto in epoca leggermente successiva, cioè nel 1946, è rimasto dimenticato nel buio dei scappari più dimenticati in bianchieri. Adesso i familiari hanno acceso una candela nel buio, che pian piano sta diventando più luminosa. Peraltro hanno contribuito al ritrovamento della lista di imbarco di un altro piroscapo, il Donizetti, che è fondato nel Bariceo, per un totale di circa 7.000 nomi di soldati dispersi. Considerate, come ha detto il Vescovo, che curano circa 14.000 i soldati dispersi davanti di circostanze. Questa celebrazione eucaristica oggi ha un doppio valore aggiunto. In primis perché è la prima volta, è la prima volta in 75 anni che viene organizzata in Italia una messa in suffraggio delle vittime del più grave disastro marittimo della storia del Mediterraneo ed il terzo disastro in genere della storia d'Italia dal 1900 ad oggi. ed è un disastro quasi sconosciuto. E riguardi lui gli fa impallidire quello del più famoso Titanic, il Titanic, che provocò solo, per modo di dire, 1.250 morti. Secondariamente questa messa solenne segue di poche ore la commemorazione con la quale questa messa è strettamente coordinata che si è svolta in Grecia davanti al monumento inaugurato dalle attualità elleniche nel 2014 e visitato anche dal nostro Presidente Sergio Mancarella nel settembre del 2017. La cerimonia di oggi, pensate, è stata presieduta dal Presidente della Repubblica ellenica, Prokopis Pavlopoulos, e alla quale ha partecipato una delegazione proveniente dall'Italia di 51 familiari. Mi limito soltanto ai ringraziamenti e a una brevissima considerazione perché ovviamente è impossibile riassumere in pochi minuti una storia che dura da 75 anni. O meglio, 4116 storie di dolore, sofferenza, disagi, attese, interrogativi, speranze. Però, prima vorrei fare appello alla vostra sensibilità, quella di tutti voi, perché troviamo una finestra di tempo nella vostra giornata per andare a curiosare sul sito internet della rete dei familiari www.piroscoporia.it che troverete nei pieghevoli, che vi prego di portare a casa come memorandum, solo per soddisfare la curiosità di verificare se fra quei 4200 nomi ordinati alfabeticamente compare un vostro monico, oppure quello di un vostro conoscente, e stimolare anche i vostri vicini di casa a fare altrettanto. Desidero di ringraziare, quindi, innanzitutto, la sua eccellenza e reverendissima Monsignor Vicenzo Avicella, il nostro sindaco, il bescopo della diocesi di Vellerisegni, per aver sostenuto questa iniziativa. Desidero ringraziare il generale di Corpo d'Armata dell'Arma dei Carabinieri da un mese in pensione, Antonio Ricciardi, e il coro polifonico salvo d'acquisto del quale è il fondatore e il presidente buon orario. Il comune di Velleri, per il patrocino offerto, in particolare l'assessore Edoardo Domenicoci, con il quale mi sono più volte relazionato, grazie, nelle ultime settimane. Ringrazio i comuni presenti, in specie quelli con i propri confaloni. augurandomi che diventiate gli apripista, gli apripista, verso i 7.960 comuni italiani, verificando se nella lista dei dispersi esiste qualche posto non cittadino. Un sentito ringraziamento a Padre Luke, Padre Luke John Gregory, che è il vicario generale dell'Arcidiocesi di Rodi, in Grecia, da dove l'11 febbraio del 44 il piroscatoria salpò. La sua presenza, quindi, è molto simbolica e significativa. Grazie, Padre Luke. Ringrazio tutti gli uomini in uniforme. Oggi qui presenti, permettetemi di nominare soltanto uno, che è l'addetto per la difesa presso l'Ambasciata di Romania e il Fraterno Amigo, il colonnello Julian Barbo. Le associazioni combattentistiche d'arma, grazie, a cui chiedo di pubblicare nella homepage dei vostri siti internet un link che rilanci a quello della rete dei familiari, come già fatto da Orca Dutti, come fatto anche dall'Ambasciata d'Italia in Uruguay, ma che noi ne spugliamo che alcuni parenti siano emigrati all'estero. Difatti abbiamo trovato qualcuno in Canada, qualcuno negli Stati Uniti, altri in Svizzera. Fra tutte le associazioni, però, fatemi nominare quella che è venuta da più lontano, c'è la sezione dell'Associazione Nazionale Redici Prigionia intitolata a Rollo Libertario, un disperso dell'Oria, proveniente da Veglie in provincia di Lecce. Ringrazio un caro amico, Giovanni Vitoriuzzi, colonnello dell'esercito di riserva, presidente del comitato Caduti di Cos, altra drammatica vicenda strettamente collegata con quella dell'Oria, e che ha aiutato nel 2015 a rompere quella famosa parte di cristallo di cui vi ho parlato prima, per realizzare un progetto che per lui era diventato una questione di vita, cioè l'individuazione delle poste comuni dove erano state sepolti parte di quei 103 ufficiali italiani trucidati dai tedeschi tra il 4 e il 6 ottobre del 1943 e per essersi a loro composti. e c'è l'uscita. Chissà quanti di quei soldati che furono testimoni di quel decilio, eh, si trovavano a bordo dell'Oria. Ringrazio una persona per me speciale, si chiama Fabio Capitanucci, che viene da Perugia ed è il pro-nipote di uno dei 2670 dispersi nel naufragio di un altro chirosco, il Petrella, il secondo più grave disastro della storia del Mediterraneo, ed anche alle cui vittime è stata dedicata questa messa solenne. E lui, e lui, che con spontaneità, con fiducia, mi ha trasmesso i veri sentimenti, i dolori, le speranze, le attese di chi ha avuto un padre, un fratello, un marito disperso in guerra, e ancora una ferita aperta. E mi ha trasmesso quella convinzione e la determinazione per cittarmi a capofitto in questa causa. Permettetemi di ringraziare il sponsor e gli amici Leonardo Galiciotto e Gianluca Simonetti, che hanno provveduto alle due piccole esigenze che non ho soddisfatto con le mie risorse personali. Ho lasciato volutamente per ultimo i familiari dei dispersi, alcuni dei quali qua presenti, ed è presente anche un familiare di uno dei 36, dei 36 sono avvissuti. Io vi ringrazio, vi ringrazio per la compostezza, il silenzio, la pazienza, la dignità con la quale avete affrontato e sopportato 70 anni di differenza generale. Ma per fortuna dal 2014 il vento sembra essere cambiato, in parte grazie anche al mio contributo, e di questo ne sono profondamente fiero ed orgoglioso. Io vi ringrazio per l'impegno profuso nel tentativo di fare riemergere il relitto del piroscato Oria, non solo con l'anima del vostro familiare, ma con tutte le 4.116 anni. Da quando è stato individuato, ormai da un caramico, lo posso chiamare, nel 2009, un sub-grego, Aristoteles Zergudis, che molti di voi conoscono di persona. Voi non rivendicate nulla, non nutrite le sentimenti e non cercate la gloria. Vi muovete solo per il semplice altruismo, per far smettere di soffrire coloro che da 75 anni ancora aspettano e spedano in una risposta alla domanda chissà dov'è. Noi, della rete dei familiari, considereremo conclusa la nostra missione solo quando tutte, dico tutte le famiglie, saranno individuate. La ritengo un'azione doverosa, dovuta, difficile ma non impossibile, perché sarebbe estremamente in grado continuare a non mettere davanti ai proiettori della storia il sacrificio di così tante giovani vita umane. E da media 23 anni che morirono per mantenere fede, al giuramento di fedeltà quella patria che oggi, oggi è la nostra madre, libera e democratica. e ringraziamo Dio che sia così, però non dimentichiamoci di loro. E aiutateci a ritracciare le loro famiglie. Io sto cercando di farlo, perché sento forte il dovere da cristiano, da cittadino, da soldato e da patriota. Fatelo anche voi. Non costa veramente nulla. Grazie.